La richiesta dei consumatori del futuro con Patrizio Roversi, conduttore di linea verde. Tu Patrizio che sei un baby boomer come me. Baby boomer, bella parola. Vuol dire modello anni 50, massimo 60. Con i prodotti convenience, con questa brutta parola inglese, i prodotti pronti, quelli che ci danno la possibilità di consumare frutta e verdura in un attimo, veloci, smart come li definiamo oggi, che rapporto hai? Ah beh, guarda, ho un rapporto psicoconflittuale, molto grave. Nel senso che in realtà li consumo e come? Quarta gamma a camionate, ma per motivi pratici, perché sono molto comodi e tutto quanto. Però devo dire che mi hanno messo in testa una serie di perplessità di vario tipo. Per esempio la conservazione di questi prodotti, come avviene? Può avvenire in maniera molto sana, può avvenire in maniera invece un po' pornochimica. Pornochimica? No, insomma in senso lato, ci intendiamo. Oppure, non lo so, il prezzo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che li consumo, perché vengono incontro a una mia esigenza proprio quotidiana, sempre con un po' di complesso di colpa. Andrea Battagliola, direttore commerciale di Linea Verde, marca di BDC. Come risponde l'industria che di questi prodotti fa un'innovazione, fa un vanto alla necessità del consumatore di avere più tranquillità quando consuma questi prodotti e dal punto di vista dell'innovazione, che cosa ci dovremmo aspettare nel futuro? Beh, innanzitutto capiamo come anche noi da consumatori e da azienda familiare cerchiamo di capire quelle che sono le esigenze dei consumatori o di tutti noi. Cioè quello di mangiare sano, di utilizzare prodotti pratici che ci fanno risparmiare tempo e fatica, ma con la sicurezza, senza senso di colpa e senza prodotti chimici. Quindi la tecnologia, l'innovazione ci viene incontro per poter garantire queste caratteristiche il più possibile. Quindi noi, soprattutto con il nostro marchio di BDC, ma in generale con i nostri prodotti, cerchiamo di dare queste garanzie con una filiera controllata, soprattutto nell'insalata e negli altri prodotti freschissimi. E nei piatti pronti, come ad esempio le zuppe, cerchiamo di sviluppare tecnologie, alte tecnologie, per poi avere un processo che garantisce un prodotto come fatto in casa. Quindi lo sforzo nell'innovazione per garantire poi un risultato più tradizionale possibile.